Trucco occhi super semplice ma elegante, guarda il video e fammi sapere cosa ne pensi. Incomincio applicando questo ombretto marrone dalla palette di Makeup by Mario con un pennello da sfumatura nella piega del mio occhio. Quindi lo sfumo solamente nella piega, quindi diciamo sotto all'osso, se voi andate a sentire, sotto l'osso dell'occhio è lì che dovete andare ad applicare il vostro ombretto con questo pennello da sfumatura abbastanza largo. E faccio questo movimento avanti e indietro. Prendo poi un pennello a penna e un ombretto marrone più scuro e lo vado ad applicare proprio dentro alla piega del mio occhio. In questo modo andrò a creare un po' di profondità nel mio sguardo e il pennello deve essere appunto appoggiato dentro la piega. Essendo poi un pennello piccolino riuscite perfettamente a fare questo movimento e lo applicate anche un pochino nell'angolo esterno in questo modo qua. Diciamo che lo fate ricongiungere poi con la parte superiore del mio occhio. Riprendo poi il pennello da sfumatura e vado a sfumare leggermente i bordi perché bisogna sfumarli e non lasciare una riga netta così perché sennò è brutta. Ma andandolo a sfumare comunque rimarrà sempre quella zona lì più scura ma si sarà fuso diciamo con l'ombretto che io ho applicato in precedenza. E devo dire che è molto bello. Applico poi quello che rimane sul pennello nella rima inferiore perché anche lei deve essere parte del nostro trucco. Con un pennello piatto prendo questo ombretto color burro e lo applico su tutta la palpebra mobile in questo modo qua come se fosse una cat crease. Quindi vado a ripulire totalmente la mia palpebra mobile in questo modo qua senza andare però sopra il nostro ombretto che abbiamo applicato prima. Quindi va applicato solamente nella palpebra mobile e volendo può essere applicato nell'angolo interno sotto l'arcata sopraccigliare per andare a ripulire e a definire e nell'angolo esterno anche qua per andare a definire. Prendo poi un eyeliner questo qua un eyeliner di Astra e lo vado a tracciare all'attaccatura delle mie ciglia per andare a creare appunto il nostro eyeliner. Mi raccomando fatelo trattino per trattino non una riga unica perché sennò non vi viene. Se voi fate l'eyeliner pezzo per pezzo vi verrà molto meglio. Ci vuole un attimo di pratica ma si riesce a fare tranquillamente. Anche io devo dire che fino a qualche anno fa non ero molto capace ma pian piano con questa tecnica del trattino dopo trattino ho imparato. E se non vi trovate bene potete tirare leggermente la palpebra anche se non è consigliato ma io lo faccio lo stesso. Mascara poi 360 flip di Clio Makeup super bello pazzesco io lo adoro e questo è il risultato finale del mio trucco. Devo dire che è super bello elegante ma veramente facile quindi adatto a tutti. Voi fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie.